Anche quest'anno portiamo il grande nuoto in Acquilibere in provincia di Varese, Monate ormai è l'attraversata dei pionieri alla non edizione, quest'anno sarà capofila del Trittico del Nord, perciò un Trittico che unirà la Lombardia con Monate, il Trentino Alto Adige con Caldonazzo e il Veneto con Peschiera del Garda. A Monate l'appuntamento è di apertura dei laghi, soprattutto quest'anno visto il tempo e portiamo in programma le solite distanze ormai tradizionali che sono l'Hard Swim di 5.000 metri col perimetro di tre quarti del lago, la Smile Swim di 2.500 metri, la traversata del lago e poi il nostro gioco finale che è la staffetta di un chilometro per tre, perciò tre staffettisti. Abbiamo l'entusiasmo di fare ancora un asse con Maccagno, Maccagno con la Gara Regina che quest'anno sarà il 4 agosto che è la traversata dei castelli, perciò dal Lido di Maccagno fino ai castelli di Cannero e ritorno e posso dire che la provincia di Varese è l'unica provincia che presenta due traversate nel circuito nazionale. Non ci sarà però il lago di Varese quest'anno? Il lago di Varese è una ferita aperta, io vivo sul lago di Bodio, perciò organizzare gare da Vulcano a Ischia per arrivare al Trentino e non sul lago di Varese è un vero peccato. Non ci sono le condizioni ambientali per farlo, l'anno scorso abbiamo fatto veramente tanta fatica, è ovvio che il lago di Varese lo portiamo nel cuore.